Vigata La stagione della caccia è interpretato da Alessio Vassallo, Thomas Trabacchi, Federica De Cola, Corrado Fortuna, Diana Roncione e Corrado Guzzanti. Inoltre c'è anche la partecipazione dell'attore Fabrizio Bentivoglio. Il film, girato tra il mese di ottobre e novembre scorso, tra le ormai note location di Scicli, Ispica, Modica e Ragusa e nel Palermitano, sarà nelle sale italiane per un'anteprima esclusiva solo il 17 e il 18 marzo e prossimamente sul Rai 1. La storia racconta di Pippo Genuardi, nato a Vigata il 3 settembre 1856 e commerciante di legnami. Ma sia chiaro, quella non è la sua occupazione maggiore, anzi potremmo dire che il suo vero talento è quello di cacciarsi nei guai. Spiantato, ironico, amante delle donne e della tecnologia, Pippo sembrerebbe aver messo la testa a posto sposando Tanine Schilirò, figlia dell'uomo più ricco di Vigata. Ma il nostro protagonista è un uomo che non si accontenta mai e così, spendendo tre lettere al prefetto Marascianno, mette in moto un meccanismo che lo porterà a trovarsi sotto due fuochi incrociati. Lo Stato che pensa di avere a che fare con un pericoloso sovversivo e l'uomo di rispetto Don Lollò, che inizia a credere che il Genuardi lo stia prendendo per fesso. A tenerlo d'occhio il questore Monterchi, venuto dal Nord, che osserverà sgomento e impotente il folle concatenarsi degli eventi.